Il Cassano colleziona un'altra vittoria dopo quella contro il Trieste fuori casa di settimana scorsa e batte il Secchia Rubiera 28-27 tra le mura domestiche del Tacca, continuando la sua risalita in classifica. Subito in partita gli Amaranto si portano in vantaggio nei primi minuti di gioco, ma la reazione della squadra emiliana non tarda ad arrivare, prima con un pareggio e poi con 5 reti sui padroni di casa. Grande sofferenza per quasi 8 minuti da parte del Cassano nella prima parte del secondo tempo e poi un'incredibile rimonta che ribalta completamente il gioco. Il Secchia non molla, ma alla fine il muro Amaranto vanifica l'ultimo tentativo degli avversari ed è subito fessa per la formazione cassanese. Coach Collez è orgoglioso dei suoi ragazzi, ma manca ancora qualcosa. La testa, la mentalità, il voler vincere la partita come abbiamo dimostrato negli ultimi 20 minuti dove siamo entrati veramente in campo con lo spirito e non solo tatticamente, ma con lo spirito e con la voglia di cercare di portarla a casa. Calma e nervi saldi è quello che chiede anche l'allenatore del Secchia Rubiera ai suoi. Purtroppo da parte di Cassano c'è stata una buona lettura tattica perché c'è stato preso a uomo Maris Versakov se questo ha sicuramente cambiato le carte in tavola e noi non siamo stati calmi e la vera cosa è stato questo. Campionato fermo il prossimo weekend per la sfida della Nazionale Italiana di Pallamano a Padova contro la Slovenia di mercoledì 16, un momento per fare il punto della situazione e analizzare errori e mancanze. Cerchiamo adesso di lavorare su certe cose che veramente vedo che non stanno andando bene, poi cerchiamo di ricaricarci e poi abbiamo la partita a Pressano, andiamo lì consapevoli che in casa vincevamo anche di 5, poi siamo stati recuperati, quindi anche lì dobbiamo capire che tutto sta nella nostra testa e specialmente nella voglia di vincere nel nostro animo.